Ciao e benvenuto o benvenuta in questo video in cui parliamo di rigidità e tensione diffusa, rigidità e tensione a livello dei muscoli e delle articolazioni. Voglio parlare di questo argomento senza guardare più che altro gli esercizi singoli ma la tipologia di esercizio, la tipologia di soluzione che bisogna adottare per combattere questa problematica. Spesso ci capita di trattare pazienti che hanno diffuse sensazioni di tensione, di rigidità e così via, che siano articolari o muscolari e spesso si parla di stretching cioè o rigidità e tensione cosa vado a fare? Vado a fare lo stretching. Allora vado a fare lo stretching perché appunto sento che mi manca questo movimento ma è vera questa cosa? Andiamo a scoprirlo in questo video. Andiamo a scoprire quindi qual è la soluzione migliore da adottare quando si ha rigidità e tensione diffusa e quindi poi come fare a ridurre questo e migliorare la situazione. Non ti do ora degli esercizi in questo video ma ti manderò nei video che ho fatto vedere degli esercizi che possono andare bene per questa situazione. Partiamo subito se questa è la tua prima volta sul canale ti chiedo di iscriverti al canale lasciarci un bel mi piace e attivare la campanella. Qua non sono nello studio di fisio social come vedi c'è una lavagna diversa sono a casa mia oggi domenica e sì ho una lavagna sul muro però importante è fare il video e capire che cosa fare per combattere la rigidità. Allora quello che abbiamo detto prima è che molte persone partono dal fatto che se ho una mancanza di flessibilità devo fare dello stretching però qui bisogna fare una valutazione prima cioè se questa sensazione di tensione questa sensazione di rigidità generale questa sensazione di blocco ce l'hai lo stesso però se dovessi chiederti di fare dei movimenti tipo di piegarti di andare a toccare le punta dei piedi di stenderti indietro inclinarti lateralmente e così via e questi movimenti ci sono cioè i movimenti di per sé non sono bloccati ma si tratta solo di una sensazione di blocco a quel punto lì lo stretching non è la soluzione perché infatti molte persone facendo lo stretching sentono un beneficio immediato ma poi non hanno un miglioramento a lungo termine di questa sensazione a quel punto lì il problema non è tanto la mancanza di movimento la mancanza di range of motion come si dice ma è un problema legato alla debolezza muscolare un problema legato proprio al fatto di fare una vita sedentare o di non allenarsi quindi quello che bisogna fare non è tanto lo stretching ma andare a vedere una serie di parametri che ci dicono come sono messi i muscoli da un punto di vista di forza e quindi qua andiamo a vedere le diverse cause questa freccia qua non è bellissima se lo stretching mi dà sollievo ma solo immediato e non a lungo termine prima cosa non è la giusta soluzione seconda cosa che vado a vedere è se realmente nell'esercizio che sto facendo nel movimento che sto facendo riesco ad arrivare a fine corsa quindi se voglio fare i piegamenti se voglio arrivare con le braccia al muro se riesco ad arrivare a fine corsa non ho un problema di movimento quindi lo stretching non sarà la soluzione quindi a quel punto lì le cause possono essere quindi cause possono essere i DOMS cioè i dolori muscolari post allenamento e l'altra causa quella che ci interessa di più può essere una debolezza muscolare debolezza muscolare quando abbiamo dei muscoli che sono deboli il sistema nervoso centrale quando questi muscoli iniziano a lavorare quindi iniziano a affaticare inizia ad interpretare questa sensazione di affaticamento in la interpreta come rigidità come tensione e così via quindi che cosa bisogna fare beh ovviamente non bisogna farlo stretching perché non è un problema di mobilità ma bisogna andare a rinforzare quindi soluzione rinforzo il rinforzo muscolare cosa va a fare allora prima di tutto bisogna capire se si tratta di un singolo muscolo quindi può essere per quelli che lavorano tanto in ufficio che stanno tanto seduti può essere un problema legato all'illopsoas quindi un rinforzo dell'illopsoas e poi una volta che ho fatto il rinforzo che ho migliorato quello posso aggiungere lo stretching dell'illopsoas che va benissimo ma non sarà quello che mi darà la soluzione o quello che mi farà passare diciamo la sensazione di rigidità o di tensione quindi rinforzo del muscolo specifico quando si tratta di un muscolo specifico altrimenti rinforzo dell'area generale quando si tratta di una sensazione di tensione di blocco in un'area generale a livello delle spalle a livello della schiena delle anche e così via quindi o l'esercizio specifico singolo per quel muscolo oppure una serie di esercizi globali per quell'area lì quindi il rinforzo e poi il rinforzo in carico andando a colpire la parte finale del movimento se voglio fare lo squat e sento che ho una certa rigidità verso fine corsa se voglio fare un movimento con la spalla e sento che ho rigidità qui vado a rinforzare non solo nell'arco di movimento in cui riesco ad andare tranquillo ma cerco di spingere un po' oltre cioè di caricare gli ultimi gradi del movimento perché di solito è lì che si nasconde poi il miglioramento in termini di sensazione di rigidità e di tensione quindi ricapitolando il tutto quando si tratta di avere una sensazione di blocco una sensazione di rigidità di tensione diffusa oppure di una singola area di una singola articolazione molto spesso ci viene l'idea di fare lo stretching perché appunto pensiamo di essere rigidi ma invece in tanti casi non è una vera e propria rigidità perché non c'è una mancanza di movimento e questo lo puoi fare tranquillamente puoi fare un test puoi metterti seduto o seduta sdraiato sdraiata andare a toccare le punte dei piedi andare a inclinarti indietro o con qualsiasi movimento che stai cercando di capire e di solito la mancanza di movimento che c'è è talmente minima che non giustifica il fatto di sentire questa rigidità diffusa ok e a quel punto lì il problema non è tanto quindi una mancanza di flessibilità perché molto spesso le persone poi fanno lo stretching quindi aumentano di flessibilità ma poi non si risolve il problema a quel punto lì il problema è una mancanza di forza una mancanza di tenuta di questi muscoli di quest'aria che poi ti dà la rigidità perché il sistema nervoso centrale interpreta l'affaticamento muscolare anche come sensazione di rigidità e di tensione quindi quando un muscolo fa fatica il sistema nervoso lo inizia a interpretare come un muscolo rigido come un muscolo teso e quindi quello che dobbiamo andare a fare è rinforzare il muscolo cercando di caricare quindi anche proprio un allenamento di resistenza di forza e soprattutto andare a cercare di rinforzare questo muscolo a fine corsa cioè quando voglio fare un movimento cerco di arrivare fino alla fine cioè di aggiungere questi gradi in più di modo da dire sia al muscolo sia all'articolazione sia al cervello che questo muscolo riesce a lavorare fino in fondo e si sta allenando si sta migliorando bene eccoci arrivati alla fine di questo video spero che ti sia piaciuto spero che tu da questo video possa riuscire a trarre un po' di conclusioni rispetto alla sensazione diffusa di rigidità e di dolore ti lascio qua sopra dei video con esercizi di mobilità ed esercizi di rinforzo generali per poter migliorare in genere quello che è la sensazione di tensione e la sensazione di rigidità generale ultima parentesi queste sensazioni di solito possono essere legate anche ad un aumento della tensione da un punto di vista emotivo quindi carico di stress piuttosto alto carichi emotivi piuttosto alti che quindi vanno ad aumentare la sensazione di di tensione e di rigidità generale ma quello è una parte diversa è un bonus diciamo che va combattuto che va riguardato con altre tecniche di gestione dello stress di riposo quindi cercando di riposare di dormire bene e l'alimentazione miglioramento del metabolismo spero di nuovo che questo video ti sia stato utile ricordati di lasciarci un bel mi piace di iscriverti al canale e attivare la campanella ci vediamo alla prossima